Allora, aspettiamo di sentire scoccare le frecce di Les Apaches, grazie ragazzi e un saluto. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi, grazie. E non è che sto bene in casa? E non è che sto bene in casa? Vai, vai, vai. Io mi pagavo un minuto, ho fatto uno e finito un minuto, ma però va bene, perfetto. Ragazzi, grazie a voi. Mi spiace per l'imbarazzo che ho. No, adesso è di perfetto. Oh, vuoi con tutto questo? Ma che cazzo? Aspetta, mori a poco, così vediamo come hai avuto un'intervista. Ma che capa di... Ma che è? Scusa. Scusa, ma che hanno immagini fizzati? Aspetta, un altro po' più indietro. Ma... ma scusa, non c'è sta nessuno? Ma no, ma che non hai avuto un'intervista? Ma scusa, le ha avuto un'intervista? Le ha avuto un'intervista? Le ha avuto un'intervista? E che sanno che sta scritto qui? Non c'è, le ha avuto un'intervista. Ah, ma vatti a prima, come? Vatti a prima? Faccio vedere un'intervista. Questa è l'intervista. Questa è l'intervista. Questa è... Guarda, ora stop, ora metto play. Eh? Vedi? Quando l'ho sistemato... Sì. Vedi? Vedi? L'ho sistemato, poi sono andati loro in campo e hanno fatto la... Ma com'è possibile? Scusa. Scusa. Fammi tornarlo qui indietro. Fammi tornare un attimo indietro. Fammi tornare un attimo con due... Ci sono la luce. Fammi tornare un attimo indietro. Vedi? Vedi? E qua, infatti, se vedi che tu sei... E tu hai avuto scenduto la luce? Ehi? Ci sei venuto qua? Vedi? Ma che cazzo è loro? C'è un'intervista? Ma come? E loro non ci sono? E come? E poi... No, che cazzo è lì. Ma si vede l'immagine lì? Questa è lì, vedi? Cazzo. E lì, vedi? E lì, vedi? E poi... 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 Ma... A cosa serve? Se col maltempo... non uscirò, io voglio stare tra la gente e senza ombrello mi bagnerò, e senza ombrello mi bagnerò.